Aveva cotto di nascosto. Mi alzai da tavola e andai in cucina a bere un bicchier d'acqua. Mia sorella era seduta lì su uno sgabbello. Teneva sulle ginocchia il tegame dove aveva cotto di nascosto una bistecca. Raccoglieva con cura il grasso rimasto sul fondo con pezzetti di pane che mangiava avidamente. Cercò di nascondere il tegame sotto il tovagliolo. Ma non eri vegetariana chiesi. Mia sorella restò lì un momento sorpresa immobile a fissare il tegame nascosto a metà dal tovagliolo. Poi andò via dalla cucina senza rispondermi. In un attimo capì la verità sui reali motivi del suo regime vegetariano. Lei si spacciava per vegetariana per seguire la moda, non per rispettare le vite inferiori all'umana. Quando non la vedeva nessuno, ritornava in sé stessa e obbediva alla voglia primitiva di mangiare la carne.